Canale YouTube di Luigi D'Azio Tacito, Publio Cornelio Tacito quindi stiamo parlando del vertice della storiografia in questa età quindi Livio e Tacito sono i maggiori storici e storiografi della letteratura latina ecco Tacito già riguardo alla nascita insomma ci crea un po' di problemi comunque molti dicono la maggior parte dei studiosi dice che sia nato a Terni in Umbria comunque diciamo la data tra 55 e 57 qui mi dice anche 58 il luogo di origine per alcuni è incerto per altri appunto sarebbe Terni però alcuni altri dicono che invece provenga dalla Gallia Cisalpina insomma c'è incertezza riguardo all'origine della città infatti Terni sostiene il vanto di aver dato i Natali a questo grande storico così come all'imperatore Tacito del III secolo che si chiamava nello stesso identico nome però è più probabile vista la diffusione del cognomen Tacitus che lui sia della Gallia Cisalpina ecco sta di fatto comunque che venne poi a Roma ed ebbe una importante carriera politica era un grande oratore fece un cursus honorum diciamo quindi una carriera politica significativa attraverso le cariche pubbliche del pretore del sacerdote del console e del pro console e infatti fu console nel 77 e poi appunto fu pro console il pro consolato della provincia d'Asia attorno al 112 e poi morì nel 117 o 120 dopo Cristo quindi è per noi importantissimo il fatto che Tacito un po' come giovenale no? sia vissuto non solo nell'età dei Flavi ma anche all'inizio dell'epoca successiva cosiddetta età degli Antonini o degli imperatori di adozione insomma abbia vissuto in prima persona il passaggio ad un diverso modo una diversa modalità di gestire l'impero e quindi abbia vissuto in prima persona insomma la presenza di questo imperatore l'imperatore Traiano testimonia di una fase diversa una fase in cui ormai i rapporti fra la classe senatoria e quindi praticamente tutti gli intellettuali compreso Tacito a tutti vedremo anche Plinio il Giovane eccetera e il rapporto di questa classe intellettuale con l'imperatore migliora decisamente cioè si crea una sinergia una come dire una concordia insomma per cui concordia di intenti per cui ormai si considera l'impero come una realtà di fatto assolutamente incontrovertibile insomma innegabile ecco questo è un punto di fondo diciamo così dell'esperienza artistica intellettuale di tutti questi intellettuali appunto come vedremo soprattutto ci vengono in mente questi due grandi intellettuali che noi studieremo che sono Tacito da una parte e Plinio il Giovane dall'altra perfettamente integrati diciamo nella 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 politica imperiale dicevo appunto che praticamente Tacito più o meno muore quando muore Traiano perché Traiano muore nel 117 dopo Cristo diventa proconsole in Asia sotto l'imperatore Traiano quindi perfettamente in sintonia con la politica imperiale questo è importante da ricordare perché noi vedremo invece che nelle sue opere Tacito sarà molto critico con gli imperatori ma saranno gli imperatori del primo secolo dopo Cristo quindi è implicito il fatto che questi imperatori si siano comportati male ma è possibile che invece l'imperatore si comporti in un modo diverso ed è quello che lui sperimenta diciamo con con l'imperatore Traiano in modo particolare Tacito sposa la figlia del senatore agricola come vedremo questa è una cosa abbastanza importante e significativa perché poi lui scriverà un'opera addirittura dedicata al suocero quindi pretore nell'88 sotto Domiziano console nel 97 sotto Nerva Nerva è quel vecchio senatore diciamo così che fu nominato imperatore per due anni dal 96 al 98 e poi appunto gran parte della sua vita politica si realizza e anche della sua stessa opera si realizza sotto l'imperatore Traiano perché poi dopo questo proconsolato in Asia si ritira appunto a scrivere le sue storie a scrivere questi importanti testi ecco la prima opera di cui parliamo è il Dialogus Deoratoribus ecco c'è da dire che sostanzialmente questa cosa fondamentale da ricordare sul Dialogus Deoratoribus sicuramente lui ha anche come punto di riferimento Quintiliano cioè questi personaggi che sono i protagonisti di questo dialogo discutono sulle cause della corruzione dell'eloquenza appunto come aveva fatto esattamente anche Quintiliano ma la prospettiva è completamente diversa perché per Quintiliano c'erano solo motivi intrinseci alla stessa oratoria cioè intrinseci alla decadenza dell'oratoria mentre invece come vedrete in questo Dialogus Deoratoribus si arriva ad una conclusione diversa cioè che sono svariate delle cause e tra queste cause la prima e noi sappiamo sicuramente fondamentale è la mancanza della libertas repubblicana quindi c'è questa chiarezza di fondo cioè che è logico che non ci sia l'oratoria così come era ai tempi repubblicani della Repubblica perché l'oratoria non ha più tutta quella valenza quel valore immediato quella spendibilità insomma immediata che aveva nel periodo della Repubblica una cosa importante però da dire riguardo a questo Dialogus Deoratoribus è l'attribuzione ecco nel senso che non è non sono tutti d'accordo sulla attribuzione tacitiana di questo testo alcuni degli storici e dei critici dicono lo stile del Dialogus Deoratoribus è troppo ciceroniano noi vedremo che lo stile di Tacito si caratterizza per essere particolarmente originale e quindi leggendo quest'opera invece nella quale che è scritta con uno stile ciceroniano alcuni hanno detto non può essere di Tacito è troppo diverso lo stile rispetto a quello delle storie e degli annales la maggior parte però degli storici e dei critici affermano e attribuiscono a Tacito quest'opera spiegando che se c'è questo stile è anche per l'argomento che viene trattato cioè l'argomento dell'oratoria e quindi lui probabilmente Tacito è stato proprio lui a scrivere questo ma l'ha scritto in uno stile appunto oratorio cioè prendendo come punto di riferimento insomma i modelli dell'oratoria stessa e quindi sicuramente lo stesso Cicerone quindi quattro protagonisti nel 75 che discutono e poi questo è anche da anche l'occasione sicuramente per parlare insomma della degenerazione morale eccetera infatti quando apro uno di questi protagonisti di questi personaggi del dialogo difende l'oratoria contemporanea gli altri invece gli dicono guarda che non è così insomma Messalla riprende tutte le tesi di Quintiliano e quindi la negligenza dei genitori nell'educare i figli il livello scadente delle scuole la futilità e assurdità dei temi delle declamazioni ma è poi Materno uno di questi quattro personaggi di questo dialogo che espone la spiegazione politica di cui vi parlavo appunto vi parlavo prima probabilmente infatti Tacito in medesima soprattutto nel punto di vista nella posizione di questo tale Materno insomma anche se comunque può darsi che il fatto che ci sia uno di questi un certo apro che difende lo stile moderno anticlassicistico anticiceroniano eccetera potrebbe farci intravedere qualcosa anche del pensiero di Tacito che del resto come vedremo è abbastanza anticiceroniano quantomeno nello stile bene passiamo adesso a parlare dell'agricola o de vita iuli agricole in un certo senso anche dal punto di vista dello stile gradatamente passiamo dall'opera più ciceroniana tra virgolette più classica più normale regolare con lo stile più vicino a quello solito della letteratura latina passiamo poi gradatamente attraverso queste opere agricola e germania che sono opere un po' di mezzo in cui già ci sono parecchi elementi innovativi fino alle storie e alle annales che sono dal punto di vista dello stile vedremo i più innovativi di tutti devita iuli agricole abbiamo detto che agricola è il suocero di tacito agricola era appunto aveva un incarico in Britannia e quindi tacito scrive questa sorta di biografia un libro in 46 capitoli l'agricola un libro in 46 capitoli anche la germania quindi una biografia una monografia insomma encomiastica del suocero quindi in cui esalta le doti del suo suocero e poi appunto dicevamo implicitamente condanna il regime di Domiziano infatti agricola era uno dei dissidenti durante il periodo di Domiziano e addirittura poi l'imperatore lo costrinse a tornare a Roma gli tolse l'incarico insomma l'incarico appunto di governo della Britannia e quindi sicuramente poi dopo agricola quando tornò a Roma dopo poco tempo morì in modo abbastanza come dire per cause sconosciute e quindi molti ipotizzano il fatto che sia stato lo stesso imperatore a far uccidere agricola dovete sapere infatti che negli ultimi anni dell'impero di Domiziano si infittirono i sospetti di congiure e quindi le repressioni dell'imperatore che poi di fatto fu fatto fu in una congiura nel 96 dopo Cristo quindi anche qui implicitamente condannando il regime di Domiziano Tacito fa un omaggio invece ai suoi successori a quelli che hanno dato una svolta alla politica romana quindi Nerva e Traiano che hanno insomma inteso il rapporto con il Senato in un modo completamente diverso Nerva era addirittura appunto vi dicevo un senatore ecco vengono elencate le imprese militari di agricola quindi la conquista della Britannia l'assoggettamento dei Britanni però accanto a questo ci sono anche diciamo così le ragioni dei vinti quindi vengono anche riportate le ragioni dei Britanni cioè di queste popolazioni che vivevano in un stato tribale insomma che sono travolte dall'esercito romano e infatti uno dei capi di questi Britanni Calgaco così descrive i romani dice aufferre trucidare rapere falsis nominibus imperium atque ubis solitudinem faciunt pacem appellant quindi depredare trucidare rapinare loro lo chiamano col falso nome di imperium e dove creano il deserto solitudinem lo chiamano pace quindi questo è sicuramente uno dei brani più famosi dell'agricola perché rappresenta appunto il punto di vista degli altri cioè il punto di vista degli sconfitti il punto di vista di quelli che hanno combattuto con i romani questo lo vedremo anche nell'opera della Germania come nell'opera della Germania anche nell'agricola abbiamo un intento un excursus etnografico quindi c'è un'attenzione sul modo di vivere sugli usi sui costumi dei germani poi vi dicevo appunto i discorsi diretti quindi il discorso diretto di Calgaco il discorso diretto di di agricola e tutte le imprese insomma di agricola in Britannia dopo il consolato gli viene affidato il comando in Britannia che terrà per sette anni quindi gran parte insomma di questo di quest'opera è dedicata alle imprese insomma alle campagne militari che sono condotte da agricola oltre i confini della provincia romana e poi tutti i provvedimenti in particolar modo quindi agricola come ben sapete i romani avevano solo una parte della insomma della Gran Bretagna solo la parte meridionale e poi avrete studiato sicuramente che Adriano e Antonino consolidarono questo possesso romano con dei valli all'epoca quindi i valli non c'erano ancora però c'erano delle spedizioni contro le popolazioni che invece si trovavano nel nord dell'isola quindi i caledoni che sono una sorta quasi di antenati degli scozzesi e quindi ovviamente qua abbiamo insomma l'esaltazione come vedremo anche nella Germania dei popoli ancora vergini in un certo senso cioè della loro dedizione nella guerra come appunto il caledo e delle loro ragioni come abbiamo visto passiamo adesso a parlare della Germania di Tacito ecco noi leggeremo dei brani in latino dalla Germania di Tacito però iniziamo adesso ad introdurla si tratta quindi di addirittura di una monografia su un popolo e quindi una sorta di novità nella storia della letteratura latina fino ad adesso generalmente si potevano mettere degli escursus su vari popoli eccetera ma non si faceva un'opera tutta quanta dedicata ad un popolo straniero quindi Cesare aveva scritto il Debello Gallico e nel corso di questo Debello Gallico ricorderete per esempio il libro Sesto insomma ci sono degli escursus sia sui Galli sia sui Germani appunto sia sui Britanni poi ci sono stati anche altri autori della letteratura latina come Pomponio Mela Ufidio Basso lo stesso Sallustio vi ricorderete quando ha scritto insomma sulla come dire sulla guerra giugurtina o Livio e Plinio il Vecchio avevano fatto delle opere in cui avevano inserito anche delle osservazioni sugli usi e costumi eccetera ma qui abbiamo proprio un'opera monografica sulla etnografia filone etnografico quindi la Germania appartiene a questo filone ma è l'unico esempio latino giunto fino a noi pensate che invece nella letteratura greca c'erano dei libri così quindi dei libri esclusivamente dedicati a popolazioni straniere a parte le storie di Erodoto che insomma spesso avevano degli escursus di questo genere c'erano proprio dei libri di carattere etnografico questo è l'unico esempio latino invece della letteratura latina di un'opera interamente ed esclusivamente etnografica ecco quest'opera quindi viene pubblicata nel 98 quindi poco dopo l'agricola l'agricola lui la scrisse dopo la morte di Domiziano nel 96 infatti è già esplicito anche nell'agricola il fatto che purtroppo il suocero è morto vittima appunto probabilmente di Domiziano mentre la Germania è stata scritta nel 98 ecco si trattava di un argomento di attualità infatti nel 98 Traiano al momento della successione a Nerva non si trovava a Roma ma si trovava sul confine del Reno come legato della Germania quindi come capitano di un esercito della Germania superiore e sembrava in procinto di riprendere la guerra in quella zona quindi è un argomento di attualità gli eserciti romani sono sul piede di guerra diciamo contro i germani quindi ha uno scopo se vogliamo di conoscere il nemico conoscere il nemico per sapere quanto potrebbe essere pericoloso diciamo che il succo dell'opera dal punto di vista politico è proprio il seguente cioè dobbiamo sostanzialmente essere contenti del fatto che i germani siano divisi fra di loro perché se i germani fossero uniti probabilmente ce ne darebbero di santa ragione cioè nel senso che questo è un po' anche la storia e gli eventi storici insomma degli ultimi secoli hanno dimostrato che i germani sono una popolazione piuttosto coriacea molto difficile da soggettare e da vincere ne sanno qualcosa i generali ne hanno saputo qualcosa i generali di Augusto che sono stati sconfitti nella selva nera nella foresta nera diciamo selva di Teutoburgo si chiamava allora quindi i romani hanno subito perdite consistenti ad opera dei germani come mai ecco potrebbe anche essere vista in questo senso quest'opera cioè chiediamoci come mai i germani sono così forti in guerra come mai siamo riusciti ad assoggettare tante altre popolazioni galli eccetera ma non i germani ecco è chiaro che si contrappone evidentemente la decadenza attuale cioè del tempo in cui Tacito scrive quest'opera dell'esercito romano pensate siamo di fatto siamo in una fase di grande espansione ancora dell'impero romano sotto Traiano arriveremo al massimo al culmine dell'espansione dell'impero romano pure già si percepiscono i primi segni di una decadenza che è una decadenza interna proprio dovuta alla motivazione che spinge le persone a combattere e invece da contrapporre questa proprio alla genuinità alla forza genuina bestiale sicuramente ma come dire ancora molto vitale dei germani alla sanità ecco dei germani che combattono senza nessun limite senza nessuna remora e quindi insomma questa opera serve per riflettere appunto sulla natura dei germani perché sostanzialmente tacito è come se dicesse cari romani tenete presente avete in mente noi come siamo riusciti a conquistare tutto quanto il mondo mare nostrum eccetera eccetera perché perché allora a quei tempi bei tempi perché anche il tacito è un po' nostalgico come maggior parte degli scrittori della letteratura latina avevamo il mos maiorum cioè avevamo era dedicavamo tutta quanta la vita allo Stato a Roma non esisteva né la famiglia né nient'altro né non c'era il lusso non c'era la ricchezza non c'era la degenerazione morale qui invece assistiamo in quest'ultimo periodo ecco noi allora eravamo come sono i germani adesso guardiamoli adesso i germani come sono di cosa sono interessati a cosa sono interessati i germani adesso solo alla guerra e basta ebbene noi eravamo così cioè all'inizio della storia di Roma i romani erano così erano persone che si dedicavano solo ed esclusivamente alla guerra e basta quindi teniamo presente che o ritorniamo come eravamo una volta oppure siamo destinati a perire a cadere quasi una sorta di profezia insomma di quanto avverrà nei secoli successivi cioè come noi sappiamo noi conosciamo la storia e sappiamo che i germani insieme accanto ad altre popolazioni effettivamente poi arriveranno a invadere l'impero romano arriveranno a ci saranno le invasioni come ben sappiamo invasioni dei germani invasioni dei barbani nei secoli successivi e c'è già comunque una sorta di c'è un sentore che effettivamente andando avanti così le cose come stanno andando avanti questi prima o poi arriveranno a come dire a distruggerci certo non sono da esaltare sempre e comunque i germani hanno i loro difetti sono veramente delle bestie persone crudeli che amano il vino le risse le gozzoviglie quindi sono sicuramente connotati da istinti bestiali tu li guardi sono tutti pieni di barbe lunghe assatanati in guerra eccetera eccetera però hanno un grande legame di stima con il loro capo cioè darebbero la vita per il loro capo cosa che invece i romani insomma ormai non fanno più come leggeremo insomma nella Germania che per i germani era disonorevole continuare ad essere vivi dopo che il proprio comandante era morto se uno lo stava combattendo sotto un capitano la situazione era difficile bisognava sacrificare la propria vita piuttosto che far morire il capitano non so se capite quindi è chiaro come implicitamente tacito vuol far pensare ai tempi suoi in cui magari uno decide di fare il militare perché vuole fare un'arrampicata sociale diciamo cioè vuole accedere a classi sociali superiori quindi guardate invece questi che continuano a combattere come degli assatanati solo ed esclusivamente per la tribù per il proprio capitano hanno un rispetto per i superiori e per la gerarchia in generale che ormai noi stiamo perdendo e qui insomma ci viene in mente tutto quello che capiterà nei secoli successivi se ben ricordate anche la storia capiterà che persino i germani arriveranno loro ad essere generali dell'impero romano eccetera saranno assoldati come mercenari e diventeranno persino generali se ricordate Elio Stivicone eccetera a difendere loro stessi l'impero romano dagli attacchi di altri germani o di altre popolazioni barbariche tuttavia la loro educazione è un'educazione bestiale è un'educazione basata sul sangue quindi sono sicuramente istintivi bestiali quindi diciamo si alterna sempre insomma in questa operetta dico operetta perché abbiamo detto che è un libro solo in 46 capitoli si alternano gli aspetti di esaltazione dello spirito combattivo dei germani da una parte ammirazione per la loro sanità morale per la loro abnegazione per quelle virtù che la tradizione attribuiva ai romani del buon tempo antico ma che adesso si possono vedere solo presso i germani infatti non assistono agli spettacoli e implicitamente tutte le volte che Tacito parla di queste cose ovviamente chi leggeva all'epoca veniva in mente cosa avveniva a Roma a Roma all'epoca tutti andavano agli spettacoli del circo dell'arena e perdevano tempo in queste cose tra i germani non si praticano tante cose che invece avvenivano all'epoca tuttavia come vi stavamo dicendo accanto a questo vi è l'atteggiamento di superiorità e di disprezzo perché sottinteso noi comunque romani noi romani siamo civilizzati perché quelli sono ancora barbari sono ancora dei selvaggi questo comunque rimane come dato di fatto di partenza diciamo come assunto implicito è scontato per fortuna quindi i germani non sono d'accordo fra di loro perché se si mettono insieme per esempio caddero in più di 60.000 dice a un certo punto tacito ma non per opera delle armi romane ma solo perché non sono insieme fra di loro combattono fra di loro per il godimento dei nostri occhi cioè per fortuna insomma che combattono fra di loro che si ammazzano fra di loro perché altrimenti sarebbero guai per noi quindi c'è sempre questa alternanza di questi aspetti positivi e negativi insomma tacito non è mosso da curiosità autentica e disinteressata per la vita e per l'usanza del popolo straniero tacito fa quest'opera come per dire cari romani leggete di questo perché queste cose possono servirci di insegnamento per noi insomma affinché ci rendiamo conto del pericolo che abbiamo ai nostri confini preoccupazione costante e quasi ossessiva e possiamo porre rimedi insomma finché è possibile passiamo alle due opere principali di tacito che sono le storie e gli annales ecco tenete presente che prima scrive le storie che riguardano un periodo successivo che va dal 69 al 96 dopo cristo e poi scrive gli annales tornando indietro e quindi descrivendo il periodo storico precedente che va dal 14 al 68 dopo cristo cioè concepisce prima un progetto di libro di storia che dovrebbe partire da Galba quindi dal 69 dopo cristo e dovrebbe arrivare fino ai suoi giorni quindi dovrebbe arrivare anche a parlare di Nerva e di Traiano poi però si ferma con la morte di Domiziano quindi le storie vanno dal 69 al 96 dopo cristo ecco viene descritta manca insomma la pars cost construense c'è sempre nelle storie di Tacito tra virgolette la pars destruense in sostanza lui ci parla di periodi piuttosto scuri piuttosto bui quindi da 69 al 96 con la morte di Domiziano tutto si chiude con la morte di Domiziano non ci parla di Nerva di Traiano quindi di quelli che invece ci fa capire che sono periodi migliori e poi quando ritorna indietro incomincia a parlarci da Tiberio in poi cioè non ci parla ad esempio di Augusto che potrebbe essere anche quello un modello positivo ma cioè ci parla di imperatori di cui esporrà molte molte critiche ecco quindi sostanzialmente in queste opere di Tacito così come vedremo anche nelle vite di Svetonio insomma si pone l'accento sugli aspetti negativi dell'impero e questo però non perché ribadiamo il concetto non perché Tacito pensi ad un ritorno alla Repubblica no assolutamente no lui è conscio e consapevole che ormai l'impero è la modalità insomma di governo alla quale anche loro insomma anche i senatori eccetera devono adeguarsi ma con la quindi non per questa non per questa idea non per l'idea che si possa ritornare indietro ma come per indicare quali sono tutti gli aspetti negativi dell'impero affinché chi insomma chi detiene il potere eviti questo no comunque pone l'accento su questi aspetti negativi in particolar modo sappiamo benissimo che nel 69 dopo Cristo si ebbe un periodo un diegno di anarchia sostanza dopo la morte di di Nerone si succedettero quattro imperatori in un anno si può dire Galba in storia di Tacito si dice che omnium consensu capax imperii nisi imperasset che Galba insomma a parere di tutti quindi consensu omnium era degno del principato capax imperii nisi imperasset però nisi imperavisset a meno che cioè a condizione però che non purché non fosse diventato imperatore perché nel momento in cui diventa imperatore infatti immediatamente sono quasi tutti contro di lui e Otone che era tra l'altro un amico di di Nerone riesce appunto a grazie proprio ai pretoriani a destituire Galba mi è decapitato una morte crudene insomma e a diventare lui imperatore a questo punto però i generali che si trovavano ai confini si può dire dell'impero romano quindi Viteglio e Vespasiano vengono acclamati dalle loro truppe imperatori a loro volta e procedono verso Roma e prima Viteglio prenderà il potere e poi a sua volta sarà sconfitto ucciso eccetera da Vespasiano quindi sicuramente periodi molto concitati una Roma caotica Ottone appunto era ex marito di Poppea ricordate Poppea era la moglie di Nerone nel frattempo mentre Vespasiano sta per prendere il potere a Roma suo figlio Tito sta per assediare Gerusalemme e qui si tronca la parte delle storie di Tacito che è giunta a noi infatti le storie di Tacito purtroppo non ci sono pervenute integralmente c'è pervenuta solo la prima parte delle storie di Tacito quindi primi anni appunto questo 69 questo 70 dopo Cristo Tito appunto che va a domare la rivolta giudaica e come ben sapete alla fine Tito distruggerà il tempio di Gerusalemme appunto nel 70 dopo Cristo quindi non ci non ci è pervenuto tutto il periodo successivo quindi quello che hanno fatto Vespasiano Tito e Domiziano quando sono andati al potere e comunque l'accento è posto sulla crisi sono tante le fonti a cui ha attinto Tacito svariati insomma autori di storie che spesso le cui opere insomma non ci sono pervenute Messalla Sisenna Fabio Rustico Aruleno Rustico Clurio Rufo e Regno Senecione insomma un po' di storici compreso anche il nostro Plinio il Vecchio Plinio il Vecchio ha scritto di tutto vi ricordate quando abbiamo parlato della sua opera e quindi tra l'altro ha scritto anche di storie insomma ha scritto anche una bella Germania infatti Plinio il Vecchio inventi i libri quindi tante tantissime svariate le fonti il concetto fondamentale che viene espresso comunque in questa in quest'opera è il seguente il principato è un male l'impero è un male ve lo sto descrivendo ve lo sto facendo vedere appunto parlandovi di quello che è successo ad esempio in quegli anni così concitati però purtroppo è un male necessario per la pace sociale affinché ci sia questa concordia insomma non possiamo pensare di ritornare indietro nel tempo quindi è abbastanza sempre piuttosto realista tacito nelle sue osservazioni l'abbiamo già visto anche a proposito dell'oratoria cioè dobbiamo vedere le cose come stanno e quindi non possiamo pensare ad un regime diverso quindi sicuramente è una questione di modalità no? cioè da una parte c'è l'assolutismo accentratore degli imperatori appunto come Domiziano in modo particolare ma dall'altra c'è il Princeps quindi il principe che si è avveduto come nel caso di di Nerva di Traiano soprattutto è una necessità insomma è una visione un po' amara pessimistica eccetera che tende a mettere in luce vi dicevo gli aspetti negativi e oscuri però sempre con questo sottinteso che questo è il prezzo che dobbiamo pagare per la pace per l'ordine per la tranquillità è il principato possiamo solamente augurarci che il principe non sia un pazzo come purtroppo è avvenuto dice Tacito nella maggior parte della storia dell'impero fino ad adesso ci sono dei dice comunque fa intravedere Tacito una certa speranza perché gli imperatori che vivono all'epoca in cui lui scrive queste storie quindi essenzialmente Traiano sono imperatori che si comportano in un modo diverso allora quali sono le caratteristiche dell'opera di Tacito la storia è drammatizzata vi è una ricerca dell'effetto quindi ci sono ritratti molto approfonditi un'analisi psicologica l'importanza dei personaggi i personaggi sono spesso contraddittori ecco quindi in questo senso è drammatizzata quindi contraddittori quindi l'uno opposto all'altro quindi non so Petronio opposto a Seneca oppure Otone Otone opposto a Galba eccetera insomma abbiamo una storiografia drammatica quindi ci sono proprio i moduli del dramma molto più accentuati rispetto a Livio e a Sallustio come abbiamo visto già nell'opera dell'agricola sono molto frequenti i discorsi diretti appunto per rendere questa storia drammatizzata molti dei personaggi intervengono direttamente quindi ci sono dei discorsi diretti accanto a questi anche discorsi indiretti senza interrompere il flusso narrativo che però hanno una medesima funzione di quelli diretti che espongono reazioni considerazioni commenti di congetture e giudizi di determinate persone comunque sempre con un ampio spazio dato agli elementi patetici quindi le morti tragiche come quella di Vitellio quella di Otone che malgrado la sua vita poi comunque affrontò la morte con dignità e coraggio i suicidi come appunto abbiamo già visto quello di Petronio quello di Seneca abbiamo visto abbiamo letti da Tacito in sostanza i supplizi che indugiano sullo spavento e sullo strazio delle vittime le descrizioni di sciagure e catastrofi come l'incendio di Roma poi il severo moralismo quindi giudizio profondamente negativo rispetto a molti dei personaggi quindi soprattutto rispetto agli imperatori i severi giudizi di condanna sui difetti vizi le debolezze dei personaggi giudizi cui non sfogge quasi nessuno quindi come abbiamo detto non ci sono personaggi positivi esaltati insomma prevalgono sicuramente i personaggi negativi nelle storie di Tacito c'è l'atteggiamento ostile nei confronti dell'imperatore sicuramente ma anche altri personaggi insomma sono sicuramente tratteggiati in modo piuttosto negativo poi la nostalgia per la perduta Respubblica che però appunto come vi ho già spiegato non è possibile riportare in auge la decadenza della classe dirigente il pessimismo insomma sul futuro di Roma queste caratteristiche che si trovano nell'istoria le ritroviamo tale quali anche negli annales negli annales è come se tornassi indietro e dicessi ma come è possibile come è stato possibile arrivare a quella degenerazione a quel caos del 69 dopo Cristo e beh insomma guardando indietro nel tempo diciamo che il nostro Tacito dice è possibile come guardando quelli che sono stati i predecessori gli imperatori che si sono succeduti prima del 69 dopo Cristo quindi se abbiamo la crisi tratteggiata nelle storie torniamo indietro poi alle cause della crisi negli annales e non si salva nessuno perfino in modo esagerato come sapete infatti sicuramente gli storiografi moderni hanno di molto rivalutato certi personaggi certi imperatori che erano stati giudicati molto negativamente da Tacito in particolar modo Tiberio e Claudio e invece gli storiografi moderni hanno dimostrato che non erano affatto così negativi come ce li aveva presentati Tacito ecco perché ci sono rimasti solo frammenti delle storie e degli annales beh questo è dovuto un po' anche al fatto che come ben sapete i testi della storia della letteratura latina sono passati attraverso un periodo molto lungo in cui erano copiati a mano dagli amanuensi nei conventi e quindi è chiaro che insomma i cristiani nel medioevo avevano apprezzato più altre opere e quindi qua ci vengono in mente Virgilio piuttosto che insomma Senica proprio opere di autori che vedevano in un certo senso come prefigurazione del cristianesimo quindi ricorderete la quarta ecloga di Virgilio ricorderete tutto quello che abbiamo detto riguardo a Senica addirittura si favoleggiava che avesse avuto una corrispondenza delle lettere insomma con San Paolo al contrario invece che cosa dice Tacito sul cristianesimo dice che è un exiziabilis superstizio cioè che è una rovinosa superstizione in particolar modo Tacito riporta insomma una discussione il Senato che si ebbe se non erro intorno a 55 dopo Cristo quando appunto si definì il cristianesimo una superstizione da condannare insomma da perseguire da perseguitare eccetera di per sé Tacito probabilmente conosceva ben poco il cristianesimo semplicemente riportò quello che era il parere dei senatori che discussero in quella seduta del Senato e che poi arrivarono a quella decisione ma questo semplice particolare diciamo che convince poi questi cristiani del Medioevo a mettere un po' da parte le storie di Tacito e quindi ecco il motivo per cui queste ci sono pervenute a noi in modo frammentario ecco gli annales come abbiamo detto descrivono la storia di Roma dal 14 al 68 a differenza delle storie comunque i frammenti che ci sono pervenuti sono un po' più consistenti attraverso questi frammenti abbiamo un giudizio chiarissimo abbiamo chiaro insomma che cosa pensava Tacito di Tiberio Tiberio è tratteggiato ripeto in modo estremamente negativo Tiberio uccide manda in esilio i suoi antagonisti si fida di Seiano che poi farà ammazzare anche lui insomma quindi sicuramente un imperatore molto negativo che poi oltretutto invece di affrontare i problemi quando può e appena può se ne sta lontano da Roma nel suo esilio dorato di autoesilio insomma vacanza dorata insomma a Capri vacanza che conduce in modo dissoluto eccetera come vi ho già spiegato comunque le cose in realtà non stanno assolutamente così ed è un po' la storiografia senatoria che ha tratteggiato Tiberio in questo modo ma non è probabilmente è vero che fosse così ecco manca invece Caligola di Caligola mancano quei libri insomma relativi a questo imperatore e quindi si passa subito a Claudio e proprio si ritorna a leggere gli annales di Tacito laddove Claudio fa uccidere Messalina la sua prima moglie che insomma come ben sappiamo l'abbiamo visto insomma anche l'ultima volta con Giovenale non era sicuramente un esempio di virtù femminile e quando insomma l'imperatore scopre che praticamente si è sposata con un altro uomo la fa uccidere e così al suo posto arriva Agrippina ma come ben sappiamo poi con l'imperatore successivo le morti aumentano e si moltiplicano perché lo stesso Nerone fa uccidere la sua stessa madre Agrippina fa uccidere la sua prima moglie Ottavia e il liberto Pallante insomma un'immagine proprio dell'impero piuttosto truculenta piuttosto violenta eccetera le fonti degli annales sono più o meno le stesse fonti delle storie cioè vale a dire Prino il Vecchio più una pletora di storiografi minori e abbastanza quasi sconosciuti e adesso invece leggiamo qual è l'ideale storiografico di Tacito ecco che cosa dice infatti lui all'inizio delle storie come una sorta di programma del suo testo dice incorruptam fiden professis neque amore quisquam et sine odio dicendus est chi come me ha dichiarato un'incorrotta lealtà deve parlare di ognuno senza adulazione e senza odio ecco in sostanza lui si prospetta come lo storico obiettivo ecco teniamo presente questo che sostanzialmente i nostri critici studiosi riconoscono a Tacito una maggiore ricerca dell'obiettività rispetto ad altri storici romani soprattutto ma dicono che sostanzialmente che Tacito non arriva al modello diciamo di Tucidide Tucidide è lo storiografo greco che è un po' preso come modello almeno di un tentativo di oggettività storica noi insomma già leggendo tra le pieghe di questi riassunti che abbiamo fatto abbiamo già intuito che Tacito non è che sia così oggettivo insomma la sua non è una storiografia scientifica razionale scientifica come quella di Tucidide perché in lui compare comunque il moralismo cioè il finalismo morale della sua opera e lo dice lui esplicitamente principium munus annalium reor ne virtutes sileantur ritengo che lo scopo principale dei miei annali sia quello di non passare in silenzio le virtù utque pravis dictis factisque exposteritate et infamia metus sit e di fare in modo che le azioni e le parole disoneste e qui abbiamo detto che comunque sono la maggioranza delle cose che abbiamo descritto nelle storie temano di incorrere nel disprezzo presso i posteri insomma non è così imparziale il nostro tacito le sue fonti sono vagliate scelte in base agli scopi ideologici insomma che lui si pone iscriviti grazie a tutti